Cosa sta succedendo alla Camera dei Deputati nel suo bilancio? Nel suo bilancio il messaggero è andato a scovare una cosa molto semplice, cioè il bilancio per l'anno prossimo della Camera dei Deputati a guida, giallo, verde, presidente Fico, l'uomo contro i vitalizi, cosa succede? Aumentano i costi della Camera dei Deputati. Si aumentano, la casta aumenta. La casta non è fatta più da Pomicino, non è fatta più da De Michelis, non è fatta più da Forlani, è fatta da Fico, è fatta da Fraccaro, è fatta da Salvini, è fatta da, che ne so, da questi qua nuovi, va bene? Aumentano i costi della Camera dei Deputati, nonostante sia guida Fico. E di quanto aumentano? 19 milioni. Passo da 950 milioni, secondo quello che scrive il messaggero, a 969 milioni. By the way, mille miliardi per far funzionare la Camera dei Deputati, beh, mi sembra una cifra niente male. Questo però non lo possiamo più dire, perché oggi ci governano quelli che sono per i tagli, quelli che vogliono che i vitalizi vengano tagliati. E l'altra cosa divertente che c'è, hanno tagliato i vitalizi, che dovrebbero essere 40 milioni di risparmio nel 2019, ma siccome li hanno tagliati ma non sono sicuri che questa cosa possa passare alla Corte Costituzionale, non daranno indietro al Ministero del Tesoro gli eventuali risparmi che hanno fatto nel non pagare i vitalizi. Vi spiego la procedura, come direbbe il Marchese del Grillo. La Camera taglia il vitalizio al deputato di 20 anni fa. Gli taglia il vitalizio. Sono 2000 persone a cui taglia il vitalizio perché erano fuori dalla riforma del PD. Taglia il vitalizio a questa persona, gli toglie 1000 euro, ma siccome questi 1000 euro non è sicuro che quella persona non faccia ricorso e vinca il ricorso, se li tiene non li restituisce al tesoro. Quindi il risparmio è zero. Cioè hai tagliato i vitalizi, ma il risparmio è zero. Ma vado avanti, oltre al risparmio zero, cosa hanno fatto questi paracuri della Camera Deputati? Come sapete Renzi aveva messo quel tetto assurdo di 240 mila euro per tutti i dipendenti pubblici. Solo che la Camera Deputati fa come cazzo gli pare perché non sono dipendenti pubblici. Allora che cosa fanno? Fanno i fichi, dicono per tre anni anche noi il tetto di 240 mila euro. Sono finiti i tre anni. L'anno prossimo e il quarto anno aumenti per tutti i dipendenti della Camera. Il che vuol dire che aumenteranno gli stipendi e le pensioni dei dipendenti della Camera. Ci sarà il 240 mila euro, non sarà più un tetto e non se ne parla più. E ci sarà un nuovo concorso per assumere più persone alla Camera perché non gliene bastano quelle che c'hanno. Allora io dico, e dove siamo finiti? Stella, Rizzo, il Movimento 5 Stelle, i leghisti, i forconi della mia minchia. Dove sono finiti questi dopo che ci sono ulteriori aumenti per quella che doveva essere la Camera della Casta? Adesso sono loro, ci sono loro che sono là. Tagliateveli, diminuite, riducete se è così semplice. 969 milioni costerà la Camera. Io dico, andiamo avanti, vediamo che succede.